Ben trovati, ben trovati a tutti quanti voi. Parliamo della grandissima attualità, la panchina della Juventus. Ebbene, nessuno oggi, nessuno, se non Giuntoli e qualche altro, vi potrebbe dire se Allegri resta o meno l'anno prossimo. Quindi tutte le cose che sentite sono solo tanto chiacchiere. Nella fattispecie di l'altra sera io vi ho dato la cronaca, la cronaca spicciola e avete visto come è finita, è finita con il no di Gionel Canescanavino alla posizione dei traghettatori, uno dei quali, guarda un po', guarda un po', ieri stava a Juventibus e mi riferisco ad Angelo Alessio. Angelo Alessio il conosco bene, è di qua, è da scuola con me la prima ragioneria, grande tifoso del Cagliari, grande personaggio, grande uomo, grande famiglia la sua, senza entrare nel merito a dimostrazione del fatto che se Angelo Alessio torna d'attualità vuole dire che la notizia poi era vera, ma io so che era vera la notizia, lo so bene che era vera la notizia, ma Calvo non ce l'ha fatta, Calvo ha tentato lo scossone ma non ce l'ha fatta. Fra l'altro ho visto in parte anche questa trasmissione di Juventibus, voi sapete quanto c'è in Monblano, io mi evito, mi vomito solo a vedere Monblano, che fra l'altro copre tutti, parla su tutti, disquisisce, alza la voce, quindi non si può guardare. E c'era uno lì, con la barba che si mangiava le mani, continuamente, che si definiva Allegriano e che sperava, immaginate gli Allegriani dove arrivano la loro cattiveria, era un giornalista fra l'altro, Allegriano, la loro cattiveria, naturalmente difesa d'ufficio ad Allegri, mi auguro che se ne va Allegri e che chi viene fallisca. Cioè immaginate la loro mente contorta, lo ha detto a Juventibus, potete vedere la puntata di Juventibus, era un giornalista, se riesco ad avere il nome vi faccio anche il nome, perché è giusto che sia così, che si definiva Allegriano, voi immaginate questi a che punto arrivano, immaginate, perché la cosa vergognosi doveva essere io, la vedevi, vedevi come se ne usciva quel signore. Allora, vediamo un po', Juventibus, prendiamo un po', falci, falci, cioè questo falci che si definisce Allegriano ha detto che spera che Allegri venga esonerato e chiunque viene dopo di lui fallisca. Cioè ma voi pensate un po', cioè loro interpretano fedelmente l'allegrismo, questi sono gli Allegriani. Se non sei a favore di Allegri ti coprono di fango, ti coprono di insulti, cercano di minimizzare la persona che non la pensa come gli Allegriani. Questo, cioè ma come fanno ad invitare questa gente, proprio perché devono riempire e fare soldi? Perché questa è poi una trasmissione che fanno su Twitch, dove lo sapete le dirette vi danno soldi e ripetono su YouTube. Dato che io non ho Twitch, l'ho visto su YouTube, ecco qui. Ma vedete se è possibile una cosa del genere? Se è soltanto immaginabile una cosa del genere? Francamente è molto grave, molto molto grave, ne prendo le distanze, come da tempo ho preso le distanze dagli Allegriani che sono la categoria più pericolosa della della Juventus, più pericolosa, che sono invadenti, sono cattivi, ti buttano bestemmi, ti buttano fango, ti buttano tutto. E gente proprio terra terra gli Allegriani, gente vergognosa, schifosa. Cioè immaginate, spero che se ne va Allegri, viene un altro e fallisca. eh ma Gossarri l'hanno preso nel culo però. Eh sì, perché lì hanno dovuto sperare nella vergognosa, devo dire scandalosa situazione relativa alla diatriba tra i senatori, Chiellini, Bonucci voleva fare i mondiali, date che De Miral e l'Elite giocavano, poi si sono uniti Buffon e Ronaldo e hanno fatto fuori Sarri. Vabbè, acqua vecchia, acqua passata. Parliamo del presente e dell'immediato futuro. Si parla tanto di questo Tiago Motta. Tiago Motta. Si parla di Tiago Motta alla Juventus. Pensate un po'. Cioè un emerito sconosciuto, uno che non ha mai vinto niente, totalmente niente, che sta facendo un buon campionato con il Bologna e non lo metto in dubbio, ma non è che deve venire Tiago Motta per fare un buon campionato con il Bologna. Si parla di questo Tiago Motta. Secondo me è una scelta sbagliata della Juventus. Fermo restando, fermo restando, io non credo che la Juventus possa andare su Tiago Motta. Non lo credo, non lo penso. Sono avanzate anche perché il procuratore di Tiago Motta è un certo Canovi, uno che conosce bene i giornalisti, sa dove piazzare le proprie notizie, sa come far alzare l'hype dei suoi assistiti, quindi personalmente poi può darsi che mi sbaglio. E non mi auguro di sbagliare, perché io francamente non vedo Tiago Motta di buon occhio alla Juventus. Allora, Tiago Motta, così accostato alla Juventus, ma davvero pensate che potete derubricare la Juventus all'Inter di Stramaccioni, piuttosto che alla San Benedettese, all'Avellino e a queste squadre? Ma davvero potete pensare questo? Ma davvero nella vostra testa c'è questa cultura? È vero che il calcio ormai è una cosa, no, lo sguazzamento totale, è vero questo, ma è anche vero che, cioè, chi accosta Tiago Motta alla Juventus non è tifoso della Juventus. Si può dire, vabbè, un bel allenatore emergente, fa giocare bene il Bologna e su questo, per carità, è la verità, è totalmente la verità. Ma accostarlo alla panchina della squadra più blasonata del calcio italiano, sembra quantomeno irriverente per la Juventus stessa, ma è lì vogliono arrivare. Il problema, voi mi dite, l'ha allenata Allegri, l'ha può allenare chiunque, questo anche è vero. Allegri è come i grillini al governo. Sono andati i grillini, gente presa in mezzo alla strada, sui computer, li hanno messi a fare con gli onorevoli, i ministri, i presidenti del Consiglio e via dicendo. E la politica è andata a puttana. Così si è verificato con Allegri. Il fatto che Allegri allena la Juventus, che è il più scarso, credo, degli ultimi 150 anni in Italia, è, ma non in Italia. Pirlo non lo metto in mezzo, perché Pirlo è ancora più scarso, ma non l'aveva fatto mai l'allenatore. Fu un colpo di testa sbagliato da parte dei senatori di Andrea Agnelli, quello lì, ma ancora più sbagliato è stato il ritorno di questo deficiente che ora ha la Juventus sulla panchina. Allora c'era allenata Allegri la Juventus, possono allenarla tutti. No, non è che noi dobbiamo sempre sbagliare. Proprio perché la sta allenando un incompetente, ora ci vuole un competente. ci vuole uno che la sappia allenare bene, uno che la sappia ricostruire, come il dopo del Neri, il dopo Ranieri. Ci vuole uno che la possa, diciamo, riprendere, perché sono solo macerie, è come una bomba su una città. E non va bene. La ricostruzione l'ha fatta fare a chi, diciamo, ha esperienza, a chi ha competenza, a chi ha fatto la gavetta totalmente. Qualcuno mi riprende, diciamo, tu sei a favore di Tudor. Certo che sono a favore di Tudor. Perché sono a favore di Tudor? Vogliamo vedere un po' chi ha allenato Tudor? Giusto per... Tudor fece un solo sbaglio. Doveva mai accettare di fare il secondo appello. Mai. Mai doveva fare... allenato. Allora, vediamo un po'. Allenato. Lailuk Spalato. Allenato è stato il vice allenatore della Nazionale Croata. Allenato Lailuk Spalato. Il Pauk di Salonicco. Il Karabukspor. Il Galatasaray. L'Udinese, due volte. Lailuk Spalato. Vice allenatore della Juventus. Il Verona e il Marsiglia. Scusatemi. Scusatemi. Non è proprio un novello. Ma è un grande allenatore. Mi direte cosa ha vinto? Credo che salvare squadre come il Verona, come l'Udinese, condi più di vincere qualcosa. O allenare l'Ailuk Spalato. O allenare il Galatasaray, che sono profili internazionali. O l'Olympic Marsiglia, con il quale l'anno scorso, per un periodo lunghissimo, è stato prima in classifica, ancora prima del Paris Saint Germain. Ma davvero pensate che vogliamo mettere Stutiago Motta? Che non sappiamo se è carne o è pesce. Non sappiamo chi fosse. Solo perché ha fatto 20 partite buone. Ma io credo che qui si sta... si sta toccando il fondo. Si sta parlando proprio a vanvera. Io dico no a Tiago Motta. Che poi dire Tiago Motta alla Juventus? Sbanca, fa benissimo. Viva Tiago Motta! Ci mancherebbe altro. Oggi per me non è un profilo giusto per la Juventus. tutt'altro. È un profilo rischiosissimo. Perché andiamo a fare da balia. Andiamo a fare da... diciamo... da esperienza. No. Noi già ci vuole uno che già ha esperienza. uno che è già notevolmente esperto. E che possa portare immediatamente dei risultati alla Juventus. Perché a noi servono i risultati ormai. Basta! Con questo sono cinque anni che non si vince lo Scudetto. O meglio che si regala lo Scudetto. Sono quattro anni con questo. Credo che sia un tempo ormai troppo. Regalare agli altri lo spazio con la migliore squadra. perché non è che dici tu... tu dici la squadra che devi fare... devi arrivare in Champions League e allora ci sta tutto. Ma tu hai la migliore squadra del campionato. La più forte, sei la Juventus. L'unica squadra che è lo stadio di proprietà. Che è un vantaggio enorme. Che solo Pirlo e Allegri potevano non far pesare sull'andamento. I danni fatti da Pirlo e i danni fatti da Allegri sono incommesurabili. Non si possono misurare economici di risultati. Danno di calciatori. Hanno devastato due o tre generazioni di calciatori. Non scherziamo. Quando vi raccontano determinate cose. O sono Allegriani o sono anti-Juventini. Perché oggi l'Allegriani è derubricato sulle posizioni degli anti-Juventini? Oggi qualsiasi anti-Juventino odiatore di professione contro la Juventus fa il tifo perché Allegri rimanga la Juventus. Qualsiasi. Chi invece è subdolo e chi invece vi propone Tiago Motta. Eh sì, quello è subdolo. Perché vai a prendere uno giovane con esperimenti, per fare esperimenti. E che facciamo? Credo che Tiago Motta fa benissimo a stare dove sta, per carità, ad andare ad altre parti. Io credo che alla Juventus Tiago Motta non va bene. Per tanti motivi. Dicevamo, vabbè, ma tra pattoni Mori Perti non prese dalle giovenili del Milan l'ho mese sulla panchina. Era diverso. Era molto diverso. C'era Boni Perti. C'era una squadra che stava nascendo per essere una superpotenza mondiale. Arrivò a vincere l'intercontinentale. Quindi, anche se lo fece poi successivamente, però stava nascendo una superpotenza. Questo, secondo il mio personale parere, non è adatto al momento della Juventus. Mori Perti all'epoca sceglieva i vari Parolavec, Palec, Punto Trapattoni, i quali avevano il compito di gestire un calcio particolare, molto più bello, molto più affascinante, molto più suggestivo. Oggi non ti puoi permettere di sbagliare. Già Allegri è stato un disonore farlo tornare sulla panchina della Juventus. Totalmente un disonore. Quindi, per me non va bene assolutamente. Per me il numero uno, al di là delle sue cattiverie, ha fatto contro la Juventus. Per me dovrebbe tornare Conte, ve lo dico apertamente. Ma la mia personale opinione no. In alternativa a Tudor, non vedo altri profili. Personalmente non ne vedo altri profili. Naturalmente la condizione sine qua non è quella di cacciare subito, immediatamente questo che c'è ora sulla panchina, perché più giorni fa più danni provoca. Danni poi che chi verrà dopo di lui dovrà riparare. Perché siamo a questi livelli. Siamo totalmente a questi livelli. Quindi no a Tiago Motta, per quanto mi riguarda, la mia umile voce. Non so voi come la pensate, però per allenare la Juventus non puoi aver allenato tre squadrettine e poi vieni a Torino. No. Per allenare la Juventus ci vuole ben altro. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessica, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.